Sicuramente partiremo dalla difesa del territorio, quindi diciamo con fermezza e senza equivoci un no alla nuova pista aeroportuale. Se ci fossero stati dubbi sulla posizione del PD a Campi Bisenzio sulla nuova pista di Peretola, il candidato alle prossime comunali, Leonardo Fabri, sembra averli chiariti. Fabri, che si è presentato ufficialmente, si aggiunge ad altri due candidati di area centrosinistra, sono due invece nel centrodestra, ma come candidato del PD è l'erede naturale dell'amministrazione di Emiliano Fossi. Se ora l'ex sindaco sembra aver cambiato idea o comunque ha ammorbidito alcune sue posizioni, da segretario del PD regionale i ne discuteremo sono aumentati rispetto a posizioni più perentorie, sull'aeroporto Fabri è chiarissimo. Lo è un po' meno su un'altra questione che potrebbe riguardare Campi, ma che è a Valenza regionale, un impianto di smaltimento rifiuti in questo territorio. Abbiamo già detto con forza no a un impianto di termovalorizzazione nell'area dello smannoro. Sicuramente siamo forza di governo, non vogliamo andare avanti da soli, vogliamo concertare con tutti i comuni dell'area fiorentina, perché su queste tematiche dobbiamo marciare uniti e non in ordine sparso. Quindi un'apertura c'è? No, un'apertura non c'è rispetto all'opera, c'è un'apertura a un dialogo, a mettersi intorno ad un tavolo e a trovare la soluzione migliore per tutti. Se questa soluzione fosse individuata nella piana? Territorio di Campi, abbiamo già detto e ribadiamo che non è a disposizione per un impianto del genere. Insomma, discutiamone a casa di altri. Un po' più possibilista, Fabri è sullo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Alcuni candidati sindaco hanno rispolverato l'idea in questi giorni di turbolenza al Franchi, tra fondi che non arrivano e il trasloco di due anni a cui i cantieri costringerebbero la squadra. Idea sostenutissima dall'ex sindaco, quando sembrava reale, Fossi ha adesso chiuso la partita. Ormai è Fiorentina, ha chiusato. E Fabri? Tra i tre temi, aeroporto rifiuti e stadio, quest'ultimo è quello che ha più chance di apertura. Mi sembra che Comune di Firenze, Fiorentina Calcio, abbiano fatto altre scelte. Se poi dovessero cambiare idea, il Comune di Campi darebbe la propria disponibilità a sedersi intorno a un tavolo e a rivalutare l'opera.